Siamo qui con Yannacone, il mister Yannacone che partire sarà 4-1 vittoria. Diciamo che è stata una partita che abbiamo preso con il giusto verso, i ragazzi sono un gruppo meraviglioso, una famiglia che crede in quello che fa e quando viene qua gioca a calcio, è un gruppo unito, è stato semplice per me in un gruppo già formato tirar fuori il meglio di loro, ma il merito è solo loro perché si impegnano tanto negli allenamenti, sono costanti, stanno crescendo partita dopo partita, da settembre stiamo insieme, i risultati sono eccoli, questi sono i risultati che ci sono dietro al lavoro, dietro alla passione, dietro al cuore di questo gruppo e abbiamo vinto e siamo campioni. Grazie a tutti!